Ancora tasse o meglio, tasse vecchie ma con modifiche via le esenzioni promesse ai pescaresi dopo l'ultimo innalzamento dell'aliquota e ora il centro-destra dice manca solo la tassazione dell'aria. Eliminate tutte le agevolazioni, aliquota al massimo, si mascherano ulteriori tasse anche con la storia degli abbonamenti come nel caso della sosta in centro, veramente credo che ogni limite ormai sia stato superato. E' bene che questa amministrazione si fermi e ragioni sul fatto che non è possibile andare avanti in questa maniera. Parcheggia a pagamento da luglio con abbonamenti preconfezionati. Dice il centro-destra si tratta di un modo per mascherare altre tasse. Qui non c'entra il debito delle casse né la vecchia amministrazione. Qui il debito non c'entra nulla. C'entra il fatto che Renzi continua a tagliare i fondi ai comuni e i comuni devono inventarsi di tutto per poter fare cassa. Questa è la verità, chiariamola una volta per tutte, non c'entra la gestione del passato. Non stiamo sanando nessuna posizione debitoria, stiamo cercando di introitare le risorse da spendere, anzi stanno cercando, Alessandrini e i suoi, cercando risorse da spendere.